Musica Dalla 27 al 29 settembre l'Olympia Exhibition Center di Londra che ospiterà la più grande conferenza e fiera per il settore attrazione in Europa, l'Euro Attraction Show 2011. Le aziende espositrici presenteranno i nuovi prodotti e servizi per l'industria delle attrazioni. Oltre 8.000 visitatori provenienti da 80 paesi sono attesi per partecipare alla Tre Giorni. La Serie B ospita in questo weekend due importanti match che vedranno sfidarsi le quattro squadre venete militanti del campionato cadetto. Il Verona ospiterà il Bente Godi, la capolista Padova, mentre il Vicenza ancora senza vittorie incontrerà in trasferta il Cittadella dei Foscarini. Oggi quinta giornata di Serie B che sarà aperta dall'anticipo serale Verona-Padova. Al primo tempo si dovrebbe chiudere in parità. 1.92 il successo parziale del Verona è dato a 3.15. Il Verona è dato a 3.15.